Canale YouTube di Luigi Gaglio Geronimo Stilton Questa volta ci dedichiamo ai nostri lettori più giovani quindi ai bambini che vanno dai 6 ai 10 anni Diciamo che Geronimo Stilton potrebbe essere un primo step uno dei primi esperimenti nella vita dei nostri figli di lettura autonoma, semplificata che poi però ovviamente può portare a delle letture un pochettino più interessanti magari anche classici in originale volevo dire classici ridotti per bambini però ripeto potrebbe essere un primo step un primo passo l'importante è non fermarsi qui sicuramente si tratta di testi che sono alla portata dei primi lettori e questa è una cosa positiva ripeto non bisogna poi fermarsi lì se lo scopo è quello di far considerare ai nostri piccoli figli la lettura qualcosa di divertente qualcosa di facile, semplice almeno in questa prima fase allora questo scopo può essere anche perseguito con queste letture l'autrice delle storie di Geronimo Stilton è Elisabetta Adami figlia di un editore di libri per ragazzi Elisabetta Adami nata nel 1958 definisce così le storie di Geronimo Stilton storie comiche e avventurose ma anche con tanti valori etici di un topo timido, tenero e pasticcione quindi diciamo che è consapevole anche lei che si tratta di storie che non hanno grandi pretese però cerca anche di veicolare alcuni valori importanti come la gentilezza, la pazienza, la condivisione e l'amicizia il protagonista di queste storie è Geronimo Stilton un tipo, anzi un topo che è responsabile di un giornale chiamato l'Eco dei Roditori è il giornale più famoso dell'isola di Topazia può darsi che Elisabetta si sia un po' immedesimata in questo protagonista in quanto Geronimo Stilton diciamo è l'ultimo rampollo di una casa editrice quello che gli piace di più poi è scrivere libri gli piace anche stare con la famiglia composta da sua sorella Thea il nipotino Benjamin, l'amato nipotino Benjamin e il cugino Trappola, il cuginastro Trappola infatti vive sempre avventure con i suoi amici e con la sua famiglia questo è un disegno che ci propone la follata congerie di personaggi che circondano Geronimo e lo aiutano oppure lo contrastano nel corso delle sue avventure quelli principali sono anzitutto sua sorella Thea Stilton Thea con l'H nelle versioni inglesi di queste storie che sono state fatte anche come un certo successo ah ma i viaggi e le avventure a differenza di Geronimo che invece è un tipo che vorrebbe stare un pochettino più tranquillo diventa anche scrittrice di storie tutte quante sue e quindi appunto qui abbiamo le Thea Sisters eccetera insomma è chiaro che accanto ai libri di Geronimo Stilton è nata poi tutta una serie di altri prodotti editoriali tipo calendari libri di barzellette oppure album a immagini che ovviamente completano un po' tutta la proposta editoriale che gira intorno a Geronimo Stilton Benjamin Stilton affezionatissimo a Geronimo piccolino lo sostiene sempre grande amico anche quando Geronimo è un po' distrattato da altri preso in giro per esempio da Trappola che è un burlone matricolato vedremo Benjamin è sempre dalla sua parte vuole sempre molto bene a Geronimo è un nipotino ecco quindi vuole molto molto bene allo zio come dicevamo invece Trappola Stilton dispettoso furbastro sempre pronto a fare scherzi certe volte anche un pochettino pesanti ingordo ed egoista però comunque sempre uno Stilton quindi legato profondamente a Geronimo perché c'è uno spirito di famiglia fra loro comunque poi abbiamo Pinky Pick sempre alla moda la giovane assistente editoriale dell'eco del roditore aspirante giornalista quattordicenne porta una ventata di novità nell'ufficio della casa editrice dell'eco del roditore proponendo temi che possono essere più accattivanti per un pubblico giovane giovanissimo poi tra i tanti personaggi nonno Torquato Travolgiratti detto Panzer il fondatore della casa editrice che non si fida molto del nipote e quindi quando ritorna nella casa editrice nell'ufficio di Geronimo Stilton ne prende possesso come se fosse ancora suo oppure Tenebrosa Tenebrax protagonista di storie da brivido e ce ne sono tante nel catalogo dei libri di Geronimo Stilton perché ovviamente anche per il pubblico il target cui si rivolge storie che riguardino misteri piuttosto che Halloween fantasmi e cose del genere si moltiplicano nell'elenco dei libri di Geronimo Stilton Sally Rasmussen dirige la Gazzetta del Ratto è principale concorrente dell'eco del roditore quindi è la principale antagonista di Geronimo Stilton è cinica sempre ostile a Stilton gli tende trappole micidiali anche se destinate a fallire proprio perché così perfide alla fine comunque il bene trionfa in questi libri che hanno anche una trama spesso abbastanza ripetitiva però ecco c'è di buono da dire che Geronimo non è così ostinato con lei come la stessa Sally e magari anche in certi casi piuttosto rari a dire la verità persino Sally si dimostra dimostra la sua umanità umanità topesca ovviamente ah un altro personaggio interessante è il professore Amperio Volt protagonista di alcune delle storie più bizzarre di Geronimo che inventa aggeggi imprevedibili è un po' un inventore pazzo tra virgolette o comunque quanto meno originale un esempio nella storia di Geronimo Stilton è il fantasma della metropolitana possiamo trovare un esempio delle sue invenzioni la sorella di Geronimo Thea dice che c'è un fantasma di gatto nei tunnel della ratonia della metropolitana di Topazia che è insomma l'isola dove sono ambientate le storie di Geronimo Stilton almeno come punto di partenza anche se poi dopo si va anche in luoghi inventati come il Topikistan al posto del Kazakistan i due decisero di andare insieme a Trappola nei tunnel a procurare uno scoop per il loro giornale ma non c'era un fantasma di gatto nella metropolitana in realtà era solo un esperimento del professor Voltio ecco un esempio di trama delle storie di Geronimo Stilton che come vedete prevedono un pericolo e i gatti ovviamente rappresentano il primo pericolo per i topi che poi però in più delle volte si mostra per essere si mostra per quello che è cioè generalmente molto meno pericoloso di quello che appare all'inizio e questo accade anche con tutti i vari fantasmi ieti mostri che compaiono nelle storie di Geronimo Stilton ecco i caratteri tipografici una delle caratteristiche più interessanti dei libri di Geronimo Stilton è l'alternarsi di caratteri tipografici diversi che rendono ancora più accattivanti e originali le storie è chiaro evidente che lo scopo principale come è scritto nel blog Scaffale Basso di quest'uso di font di diverse forme è quello di alleggerire la percezione della parola scritta come dire a questi piccoli lettori giovani lettori alle prime armi non spaventarti il muro di parole si spezza non importa se a volte a scapito della stessa lettura tuttavia per questi piccoli lettori le parole colorate ingrandite con forme particolari che salgono scendono si attorcigliano ci aiutano a renderci conto dell'importanza del font nella scrittura adesso provo a leggervi due paginette di uno dei tanti libri di Geronimo Stilton cercando di accentuare quello che graficamente appare sulla pagina proprio distinto rispetto al resto della storia con caratteri diversi trappola mise il viva voce e udì il professore squittire in tono professionale guardi che lei è su una brutta strada da quanto mi hanno detto la sua potrebbe essere una malattia grave che so magari un esaurimento nervoso da stress forse ha problemi sentimentali con la fidanzata comunque le prescrivo una bella cura di iniezioni poi io gridai a pieni polmoni nel telefono ma che esaurimento ma quale fidanzata ma quali iniezioni io sto bene anzi benissimo ma è stato meglio voglio solo essere lasciato in pace da tutti quanti non ne posso più udì il professore e mia sorella per lottare nel telefono poverino lui crede di stare bene è un caso grave gravissimo il professore insistette io gli consiglierei una vacanza magari su una nave da crociera io riflettei bizzarro entrò la mia caporedattrice certosina Kashmir mi guardò con aria preoccupata e mormorò dottor Stilton sua sorella mi ha detto tutto mi dispiace tanto ma non si preoccupi oggi la medicina fa miracoli certo che una vacanza le farebbe bene magari su una nave da crociera io ormai esasperato gridai ancora la nave da crociera basta io sto bene benissimo come devo dirlo notai che dall'agenda di certosina Kashmir spuntava il Deplian a colori di una nave da crociera mmm bizzarro ecco come vedete spesso nelle pagine di Geronimo Stilton compaiono le illustrazioni quindi questo continuo utilizzo di illustrazioni fondi diversi eccetera può essere propedeutico per avvicinare questi giovani lettori appunto alla lettura renderla un po' più user friendly ad una generazione che è abituata comunque al linguaggio iconico certe volte più di quello scritto Geronimo Stilton è stato poi trasposto anche a fumetti e tradotto in moltissime lingue infatti qua potete vedere un esempio delle strisce a fumetti di Geronimo Stilton in inglese ecco concludiamo il nostro breve contributo con una riflessione sui messaggi finali con i quali si chiude diciamo i vari lietofine ecco delle storie di Geronimo Stilton il quale anche se è andato incontro a disastri enormi come ad esempio addirittura l'incendio della sua casa oppure della casa editrice dell'eco del roditore poi alla fine comunque magicamente tutto si sistema e tutti questi questi disastri questi guai terminano alla fine di ogni storia c'è una morale che tende a valorizzare e recuperare la positività di tutte le esperienze anche quelle che hanno messo Stilton in difficoltà un esempio di morale finale edificante è il seguente qualunque problema diventa facile se lo si affronta insieme e allora se può servire anche questa operazione editoriale questo brand di Geronimo Stilton a veicolare alcuni buoni semplici messaggi e valori quali la moderazione che è tipica di Geronimo Stilton non c'è da demonizzarlo o da scandalizzarsi a condizione ripeto quello che dicevo all'inizio che questo sia un passo che possa poi condurre i nostri piccoli lettori ad affrontare opere ben più interessanti altri video didattici su a tuttascuola.it grazie a tutti